3 2 1 benvenuti nel 40 o 41 esimo episodio della minecraft box allora eccezionalmente siamo tornati nella nostra vecchia zona e praticamente ragazzi mi sono fornito nell'inventario delle rotaie quindi binari alimentati per poter fare il collegamento fra il nostro mondo e la zona nuova che abbiamo abbiamo trovato il warden allora io direi di muovermi prima posto guarda non voglio come sfondo ok quello solo che mi manca usate ma voi siete ancora qua che qualcuno me li porti via allora ok è da fare un piccolo passaggio siccome qua abbiamo sti maialonzi signori ragazzi se siete sensibili non guarda allora signori sostanzialmente quello che volevo fare era collegare un collegamento per tornare al nostro portale allora vediamo un pochettino perché volevo farlo come avete visto abbiamo un po di problemi con dei personaggini qua chiamati porch allora cosa potrei usare la pietra nera si dai potrei usare la pietra nera come appoggio quanta io poca ne abbia e allora da dove possiamo far partire le nostre rotaie ma guardate questo è piccolino allora dobbiamo prima scavarci un bel passaggio però dobbiamo vedere prima dove dobbiamo andare quindi lo faremo casomai a tornare indietro e vabbè oh ma che fai mi dai schiaffi ok si è di qua allora da qui dobbiamo fare tutto un passaggio unico oddio potrei anche evitare di farlo sospeso vabbè ma ci metto sei anni oh la zappa infinita velocità ok basta porcelli qua eh ma ci muoio eh allora iniziamo a piazzare le nostre rotaie sarà qualcosa di lungo da fare ve lo dico sto mettendo queste perchè poi ne ho tantissime e so che queste una volta messe basta alimentarle e andiamo giù alla grande il problema è che queste non fanno curva mmm nel senso che con queste qua ok eh con queste non posso girare con queste rotaie quindi dovrò rompere questa qua dietro qui metteremo le rotaie normali sapete quasi quasi le vado già a prendere si vado a prendere già le rotaie normali in modo che riusciamo a piazzarle di già poi qua c'è uno due che fa la curva qua allora aspettiamo un attimo prima di andare a prenderle altre così dopo facciamo un giro solo indietro vediamo di arrivare almeno prima alla al castellino scuro così adesso che torniamo indietro le alimentiamo andiamo a posto l'importante è che mi ritiene sulle torce e quelle sono importanti ok siamo arrivati già alla fortezza fantastico eh fantastico ok giù quest'ultima rotaia qui si farà un bel collegamento altezza giusta e qua signori non ci torneremo più a piedi eh chiaro ok quindi qua facciamo gli ultimi due così ottimo direi ok fai andare di là allora piccolo cambio di programma signori io sono arrivato dalla sotto invece che farmi il giro qua e tutto quanto proverò a passare direttamente da qua non dovrebbe essere niente male proviamoci eh signor blaze adesso mettermi a combattere anche contro i blaze prendiamo conto via ma non te la potevi prendere col maiale qua sotto no deve venire qua da me ok almeno mi hai dato la tua bacchettina sì fantastico bravo ok qua sotto dovrebbe essercene in alto e invece no perchè io mi sono buttato giù di qua attenzione signori eh santolino perde colpi ok qua dovremmo fare l'altra curvetta ok ok signori sono 64 rotaie e spettendo un blaze sopra la mia testa così non si lavora tranquilli però eh ok ok torcetta un bel cammino illuminato per quanto si possa illuminare secondo me non fa mai male venga nel porcio venga ecco ci vuole venire vabbè tanto allora io me ne vado a prendermi le altre rotaie che mi servono quindi signori oddio potrei già piazzarmi le red però eh tipo in questo caso uno due tre quattro cinque lo abbiamo qua ed è praticamente tutto il percorso alimentato qui potrò mettere l'altra con la red che andrà a alimentarmi queste altre poi più avanti allora poi qua sotto mi servirà altro red tutte alimentate bellissimo che fai te la viedi? e no eh oh cacchio mi manca mi manca un blocco qua recuperiamo su siccome questa sarà solo una zona come vi dicevo di passaggio gestiamola al meglio redstone redstone ne userò veramente tanta ecco ok voglio vedermi rendere safe questa zona poi eh per sicurezza qua un'altra torsetta di red che sicuramente non ha preso eh ok ok sta andando alquanto bene direi aspetta 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 ok chi è? chi è? vieni qua 10 e fai perdere torna torni bello cotto bravo piccolo piccolo ho mai dato due botte non ho mai dato manco la carne ma renditi conto comunque te la dargli in premio eh temerario ok ok non sta andando posso andare più basso? ok si può andare più basso è illuminato, illuminato, illuminato ma si blocca sempre all'ultimo ok 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 quindi questa volta non facciamolo per l'ora di prima che c'è da problem? grazie ma poi così a tutt'andare se ne arrivano loro ma se li bloccavo? no ecco e che cocchio almeno mi ha arrivato un po' di carne allora blocchettino oh cacchio ancora oddio però non attraversa le rotaie ma che botta ok no vabbè no fermi tutti ok ok qui è andato perfetto devo portarlo a livello insomma funziona tutta porco cocchio ah sono aumentati ultimamente sti porci eh vabbè attiriamo pure l'altro dato che abbiamo scoperto che non ci passano il giro di redstone ok buono 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 un po' di carne cotta non fa mai male ok andiamo a prendere le altre rotaie e ma da dove è salito la legenda per favore ah forse sono saliti da qua mi pare giusto scusate vi ho dato la possibilità di rendervi autonomi no ok andiamo a prenderci subito subito le altre rotaie e via po' per bo' u piaggio allora sono alquanto emozionato perchè potrei già provarlo ma voglio attendere voglio attendere ok qui si collega qui anche torcia aggiuntiva e via non vedo l'ora signori tornare a casa farmi il giretto subito con i nari di redstone un porsche ah ancora eh venga signor porsche venga questo è il padre di quello che ho ucciso prima perchè scappava quando lo colpivo io invece a priori scappo sempre quindi come vi ho detto poi tutto questo verrà anche messo in sicurezza gli metterò del club delle staccionate o anche solamente vetro cioè il tutto che non mi privi comunque sia piacere di vedermi il viaggio non si può lavorare così però eh aiuto aiuto ok ok ma come vi dicevo signori non so dove sono o occhio allora qua ho lasciato delle lanterne vediamo di capire eh noi arriviamo da qua ottimo iniziamo a piazzare iniziamo a piazzare i nostri i nostri binari ok siccome ho visto le torce di qua voglio capire dove mi portano ok 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 abbiamo trovato abbiamo trovato dove sei porch porch ok ok signori non sto vedendo più le mie torce eh è problematica la cosa eh allora se non ne vedo qua intorno è perché di qua non ci sono mai stato quindi può essere che io mi stia sbagliando con la strada casa a queste parti mi sono perso praticamente mi sono perso oh mio dio oh mio dio no 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 aspettate 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 oh mio dio io ci voglio tornare a casa eh eccole eccole allora ok 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 lo trovate ok oh mio dio oh mio dio raga il terrore il terrore ve lo giuro è stato il terrore per me no ma vabbè ma che avete fatto la coalizione col santolino stasera ma vabbè eh cicci parliamone eh no qua no qua no perché non ho con me l'arco quello che mi chiedo eh ormai non ho l'arco io avessi avuto l'arco due o tre colpi e questi li facevi sotto tutti venite venite siete in due venite no ne è venuto uno solo l'altro mi viene a prendere dietro se lo dico io già è vero me l'ho dimenticato che comunque loro sono rimbambiti sulle rotaie eh ok dai no questa zona va va messa sicuramente in safe dai senti sei rimasto tu a rompermi le scatole vieni ok venga vè vè stai combinando scusa ma che fa ma mi mi pigli per il culo ahia eh scusa vuoi dare cerchi eh ma ho tantissima carne di porcio no scusate recuperi la carne di porcio per cortesia allora questa la posso già attivare perché comunque sia si può attivare devo capire solo da dove sono arrivato ok da dove sono arrivato adesso ecco da qua ecco allora una cosa essenziale che io devo fare è togliermi la carne dalla tasca e mettermi la la zappetta vedi la zappetta va che è una bellezza quindi qua metto questo che dovrebbe bloccarmi allora si mette uno normale e uno di questi ecco alimentato senza alimentarlo la mancata alimentazione dovrebbe provvedere a fermarmi ecco dovrebbe eh qui ultimo con la red ok qui posso mettere un altro sti adesso qua gira si collega perfetto fantastico fantastico cosa dell'ultima pietra l'abbiamo fatta fatta non ci resta che provarlo e questo mi fa alquanto paura ritornando al discorso di prima ho fatto una cavolata lo scopriremo adesso ehm ehm signori è ora di partire oh my god oh my god oh my god oh my god tutto bene oh no no signori ritardiamo la partenza oddio potrebbero chiamarmi treni santa ehm abbiamo dimenticato abbiamo dimenticato abbiamo dimenticato di piazzare la redstone ok piazziamo la redstone in questi ultimi punti e poi rifacciamo il collaudo ehm pari tutto mettiamoci qua dei pork chop buongiorno si parte allora vorrei partire scusate ottimo ottimo se non ti piace godetevi il viaggio godetevi il viaggio ok i piglin ci guardano ahia ho preso una botta lì ho raccolto il fugo lo sapevo fammi tenere la palla in mano la zappa piccone che cavolo si chiamano ok qua è tutto alto giusto ok ragazzi ma che effetto strano fa passare per la fortezza col carrello tanto è bello mi sento un ragazzino ve lo giuro eh comunque prima la curva ho dato una gragnata devo capire che cos'è ultimo passaggio oh mio dio questo è abbastanza alto si oh my god mitico siamo quasi arrivati no no scendi ok oh mio dio aspetta ok ce l'abbiamo fatta signori vabbè abbiamo perso il carrellino ma non fa nulla dobbiamo fare lo stesso lavoro di qua quindi l'ultima una rotaia normale e poi quella non alimentata che dovrebbe fermarmi credo ok ce l'abbiamo fatta ragazzi è ora di andare a prendere un sacco di rottati di bina di carrelli mettere due belle cesto dall'inizio alla fine e poi divertirci come dei matti dovremmo trovare anche il collegamento con il portale dell'evo quindi direi che per questo video può bastare se vi è piaciuto lasciate un like commentate passate alla pagina facebook santa fox grande o da quella instagram santa fox a tiro basso e il solino nel frattempo ragazzi io vi saluto comunque è tutto oh alla p... mo no piega i perli taglia non 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 ma